Il dormitorio di Chiavari riapre per il secondo anno, il servizio riparte a lunedì 1 ottobre, nei giorni scorsi l'incontro dei volontari Casa Bruzzone restituisce qualità alla vita dei senza fissa dimora. All'udienza generale il Papa ha ripercorso la sua visita nei paesi baltici, la libertà ha detto non basta dare senso alla vita senza l'amore che viene da Dio. Coltivare l'alleanza con la terra, il tema di riflessione proposto per la giornata ecumenica di custodia del creato, in diocesi si celebra sabato prossimo nella Baia del Silenzio a Sestri Levante. Segnali di ripresa in Val Fontanabuona, nuove aperture commerciali, agricoltura in crescita, la prospettiva è quella di creare percorsi turistici e didattici legati alle produzioni locali. In campo l'integrazione con le magliette di Genoa e Sampdoria, al campo tre campanili di Bogliasco, disputato il quindicesimo anno, il derby di calcio promosso dal Panathlon International. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TC13. È pronto a ripartire il servizio del dormitorio per senza fissa dimora a Casa Bruzzone di Chiavari. Nei giorni scorsi i volontari si sono incontrati per un momento di condivisione. Il via lunedì 1 ottobre, la sera con modalità di accoglienza invariate. Il dormitorio di Chiavari è un luogo che restituisce qualità alla vita delle persone che ospita. Perciò, in vista della riapertura del servizio, la sera di lunedì 1 ottobre, per gli operatori e i volontari coinvolti si è svolto un momento di incontro e di condivisione, anche con l'obiettivo di discutere miglioramenti o nuove possibilità di organizzazione. Il volontario più di tutto facilita l'accoglienza degli ospiti e dà maggiormente il senso della casa, di Casa Bruzzone come proprio una casa, non un dormitorio. Casa Bruzzone a San Pier di Canne ospita persone senza fissa dimora del territorio, per lo più italiani, in maggioranza uomini, di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Lo scorso anno l'accoglienza ha funzionato bene. Abbiamo dato ospitalità mediamente ogni sera a 10-12 persone. Per quanto riguarda i volontari sono stati una risorsa enorme. Tra i volontari delle parrocchie, della Caritas e delle varie associazioni abbiamo superato le 100 presenze. I volontari sono preziosi, si affiancano agli operatori, entrano in servizio alla sera, aiutano gli ospiti nei loro bisogni di igiene e vestiario, alcuni si fermano a dormire. Chiunque può aderire e dare una mano. Può mettersi in contatto intanto direttamente con la Caritas, si può fare un colloquio per spiegare qual è l'attività e poi inserirsi nei turni e comunque durante l'anno ci sono sempre degli incontri periodici di formazione. La formazione è un momento importante per facilitare questo servizio. Per il momento le modalità del servizio sono le stesse dello scorso anno. Le persone che necessitano di essere ospitate per la notte si recheranno al centro d'ascolto della Caritas. Noi riceveremo un elenco di persone, poi le incontreremo tutte nel punto d'incontro che è sempre quello davanti alle poste. Da lì le accompagneremo a casa Bruzzone, poi dormiranno lì. L'indomani mattina potranno fare la colazione, avranno l'opportunità di fare la doccia, di cambiarsi, di mettere i loro vestiti a lavare e quindi di poter avere un cambio e di riprendere poi la loro strada la mattina seguente. E ora l'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco in piazza San Pietro dopo essere rientrato dalla visita in Lituania, Lettonia ed Estonia dei giorni scorsi. Il Papa ha proprio ripercorso il suo ultimo viaggio apostolico nei paesi baltici, popoli che hanno molto sofferto, ha detto, ricordando che negli ultimi cento anni hanno vissuto sotto il gioco delle occupazioni, quella nazista prima, quella sovietica poi. Il Papa ha quindi fatto notare che la sua visita è avvenuta in un contesto molto diverso rispetto a quella compiuta da San Giovanni Paolo II. Sentiamo proprio questo passaggio della Catechesi. La mia visita è avvenuta in un contesto assai mutato rispetto a quello che incontrò San Giovanni Paolo II. Perciò la mia missione era annunciare nuovamente a quei popoli la gioia del Vangelo e la rivoluzione della tenerezza della misericordia, perché la libertà non basta a dare senso e pienezza alla vita senza l'amore, amore che sempre viene da Dio. Il Vangelo, che nel tempo della prova dà forza e anima la lotta per la liberazione, nel tempo della libertà, è luce per il quotidiano cammino delle persone, delle famiglie, della società, ed è sale che dà sapore alla vita ordinaria e la preserva dalla corruzione, della mediocrità e degli egoismi. Veniamo ora in Diocesi, dove sabato si celebrerà la giornata ecumenica per la tutela del creato. Il teatro sarà la Baia del Silenzio a Sestri Levante. Il titolo di questa edizione è Coltivare la Terra, inteso come prendersi cura del creato in favore delle generazioni future. Coltivare l'alleanza con la Terra è il titolo della giornata ecumenica del creato di quest'anno, che si terrà a Sestri Levante nella Baia del Silenzio. Un importante appuntamento di condivisione e ritrovo per le diverse confessioni cristiane, che quest'anno esorta a prendersi cura del pianeta, per noi e per gli altri. Coltivare la Terra è prendersi cura. La parola coltivare significa proprio questo, è quello che il contadino ligure fa con la poca terra che c'è a disposizione, curarla perché possa rendere il massimo senza renderla sterile. La Terra ci è stata donata, è un dono di Dio, non soltanto a noi, ma a tutta l'umanità e non solo alla generazione attuale, ma a tutte le generazioni. La giornata è stata pensata per essere un momento di preghiera, riflessione e condivisione. Un'occasione per accrescere la propria sensibilità verso l'ambiente e stimolare il desiderio ecumenico di ritrovarsi fra cristiani di confessioni diverse. La giornata è pensata su tre tappe in un percorso biblico che parte proprio dalla grande pagina della Genesi sull'alleanza di Dio con gli uomini attraverso quel grande segno dell'arco posto nel cielo. Ci ricorda questa prioritaria e primitiva, appunto, primordiale alleanza con la Terra che dobbiamo coltivare. Questa prima tappa si svolgerà presso i ruderi della chiesa di Santa Caterina Sestri Levante. Poi scenderemo, perché nel percorso la seconda tappa ci porta al tradimento che i popoli, l'uomo in generale, ha fatto e continua a fare rispetto a questa alleanza con la Terra. Saremo aiutati nella sosta presso l'oratorio di San Pietro in Vincoli dal professor Giorgio Bavestrello che ci aiuterà proprio a prendere coscienza un po' della situazione attuale e dei pericoli che, appunto, la Terra e la Natura corrono a causa dell'uomo. E poi la risalita, dove concluderemo la terza tappa presso il convento dei Frati Cappuccini e lì sarà la tappa della vita nuova. Questa mattina è arrivata la risposta dal Comune di Lavagna sui ritardi dei lavori di messa in sicurezza delle sponde del fiume Entella, lato Lavagna. Ad oggi, si legge nel comunicato, è in corso la progettazione definitiva dell'opera tenendo conto di varie prescrizioni come quelle della sovrintendenza e dei vincoli ambientali. Le arginature dovranno essere realizzate con criteri di massima compatibilità ecologica nel rispetto della natura e delle specie animali segnalate con fermi biologici nei periodi più sensibili per quest'ultime. L'iter per l'autorizzazione complesso spiega il Comune dopo il via libera al progetto definitivo si passerà alla redazione di quello esecutivo alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Nel frattempo sarà cura del Comune mantenere in sicurezza l'accesso alla pista ciclabile. L'opera ha un costo minimo presunto di 650 mila euro per un tratto di circa 220 metri. La Regione ha già stanziato 420 mila euro e il Comune di Lavagna ha anticipato le somme per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Per la seconda volta in pochi mesi si è assistita all'inaugurazione di un'attività che vede affiancate due note aziende del territorio. Un segnale di speranza per una valle la Fontana Buona che negli anni ha assistito ad un progressivo impoverimento del tessuto economico e commerciale. L'ambito dell'edilizia e degli arredi cerca di adeguarsi ai tempi e di rinnovarsi. Anche il comparto agricolo sta dando soddisfazioni. Inutile negarlo il tessuto economico e commerciale della Val Fontana Buona ha vissuto nell'ultimo ventennio un cambiamento radicale frutto della crisi di alcune produzioni a livello locale ma in più ampia analisi della crisi economica internazionale. Io facevo una battuta 20-30 anni fa dicevo se uno parte da Carasco e arriva a Ferriere e non trova lavoro vuol dire che non lo vuol trovare. Era così la situazione perché c'erano più di 800 persone che venivano a lavorare in Fontana Buona rispetto a quelle che uscivano. Quindi è una situazione idiliaca. Purtroppo negli ultimi 10-12 anni la situazione è cambiata non soltanto per la crisi diciamo locale del mobilio la crisi come dicevo prima del biliardo ma anche per la crisi nazionale che abbiamo vissuto. Eppure in questi ultimi tempi sembra essere premiato l'impegno di chi nonostante tutto è rimasto in valle portando avanti quelle fonti di sviluppo che nei secoli hanno connotato il territorio e sostenuto interi nuclei familiari in primo luogo l'agricoltura. Abbiamo tanto ritorno di ragazzi che vogliono investire in agricoltura guardi abbiamo a 360 abbiamo parlato del progetto delle nocciole che è stato importantissimo con valorizzazione da parte della Camera di Commercio e adesso stiamo accingendosi alla raccolta delle olive e questi siamo molto contenti dovrebbe essere un'annata positiva e propizia come lo scorso anno. L'orientamento anche a livello nazionale è quello di valorizzare anche piccole produzioni di nicchie attraverso percorsi turistici e didattici. La possibilità per le aziende vitivinicole per le cantine di diversificare il loro lavoro quindi organizzare anche visite guidate degustazioni attività didattica e questo dovrebbe garantire non solo visibilità ma anche un introito aggiuntivo. Stessa cosa noi vorremmo fare con l'olivicoltura ma anche con la floricoltura cercheremo di provare a garantire dei percorsi enogastronomici ma legati a tutto il mondo produttivo ligure quindi parlando di agricoltura e anche di pesca per garantire un valore aggiunto alle nostre produzioni rimaniamo in tema parlando di olivicoltura vediamo quali sono le ultime indicazioni in merito al trattamento con prodotti larvicidi per contrastare l'attacco della moscole aria come vedete pubblicato sul nostro sito l'infestazione risulta sotto controllo per chi ha effettuato il secondo trattamento larvicida per chi invece non avesse provveduto si consiglia la raccolta anticipata nelle zone del primo introterra sino ai 200 metri sul livello del mare è consigliato il trattamento con mezzi larvicidi per chi non l'avesse fatto la settimana scorsa per i proprietari di Uliveti sopra i 200 metri è consigliato di attendere e in merito invece alla coltivazione del nocciolo la Proloco di San Colombano lancia il primo corso di coltivazione del nocciolo con recupero dell'esistente e nuovo impianto sabato 6 ottobre nei locali dell'ascito Cunea Calvari si svolgeranno al mattino dalle 9 alle 13 lezioni teoriche e dalle 14 alle 18 pratiche in noccioleto il corso è tenuto dall'agrotecnico Fabio Benvenuto si completerà sabato 13 ottobre con altre 4 ore di pratica in noccioleto dalle 14 alle 18 le iscrizioni dovranno pervenire alla Proloco di San Colombano Certennoli entro il 4 ottobre il consorzio rurale di Scaruglia a San Colombano ha rinnovato il consiglio direttivo nell'ultima riunione è stata ratificata l'elezione del presidente Ernesto Volpone che subentra al dimissionario Claudio Solari Solari resta come consigliere del direttivo mentre la carica di vicepresidente va ad Anna Aste rinnovate anche le cariche del collegio dei revisori dei conti ora spogliamo le pagine dei quotidiani poi tutte le altre notizie allo sport i giovani chiedono una chiesa nuova con le parole del Papa si apre la prima pagina di avvenire violenza è finito il tempo del silenzio dice Papa Francesco di ritorno dai paesi baltici risponde ai giornalisti in Cina nessuna resa le nomine le farà Roma il rapporto in vista del sinodo futuro della fede in gioco una frattura da chiudere e poi ilarità all'ONU per l'autoesaltazione del presidente degli Stati Uniti che tra le altre cose si scaglia contro l'Iran e le Nazioni Unite aiuti a chi ci rispetta Genova flop sul decreto mancano le coperture Palazzo Chigi però dice tutto chiarito per il crollo accuse all'autostrade allarme sottovalutato e per la manovra economica per la legge di stabilità di maio a marzo via arreddito di cittadinanza all'interno di avvenire gli sfollati del Monte Serra nel Pisano un inferno in fumo 600 ettari 700 senza casa un blitz studiato a tavolino per i piromani lunedì ore 22 le fiamme poi il vento ha fatto il resto il sindaco di Calci ci vorranno 30 anni perché tutto torni come prima le parrocchie si mobilitano per gli sfollati l'arcivescovo dice peccato erano a zona da poco rivitalizzata e veniamo al secolo XIX decreto l'ultima beffa Genova aspetta ancora e vediamo alcuni familiari delle vittime davanti al Palazzo di Giustizia di Genova chi guidava sul ponte lo testava senza saperlo report della commissione ministeriale poi un'intervista a Gozzi Antonio Gozzi come presidente di Federacciai il va meglio italiana Marcello il Mittal la farà crescere il salone nautico a quota 175.000 ha dato un sorriso ai genovesi e poi dal nostro territorio Santo Stefano sciatore fu ucciso da Slavina il reato è prescritto vediamo nelle pagine del Levante si tratta della morte di Marco Corvisiero avvenuta il 30 gennaio 2011 reato in prescrizione non ci sarà appello stamana all'udienza a Genova in cui sarà ratificato il nuon luogo a procedere a carico dei tre imputati familiari risarciti il papà però della vittima del maestro morto indignato da questi giudici ancora dal Levante pesce all'estero il Levante dice nì la marineria è in crescita ma la clientela al fresco locale preferisce il prodotto già pronto e pulito anche se arriva da fuori 70-80% il livello raggiunto dalla importazione di pesce all'estero secondo il report su base dei dati Istat un milione di tonnellate di pesce importato 180.000 di tonnellate pescate in Italia e dal Tiguglio dicono una barca di Sestri ha pescato 300 casse di acciu e 100 le ha vendute il resto addio a Camogli invece si vendono solo specie locali e non di allevamento prezzo e qualità vanno insieme una notizia per gli appassionati di filatelia per il 45esimo anniversario dalla fondazione dei bandierai degli uffizi le poste italiane e il ministero dello sviluppo economico hanno emesso un francobollo celebrativo la vignetta raffigura alcuni dei principali monumenti fiorentini come la galleria degli uffizi Palazzo Vecchio la cupola del Brunelleschi di Santa Maria del Fiore e due sbandieratori in primo piano il francobollo i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati negli uffici postali con sportello filatelico in diverse città capoluogo d'Italia tra cui Genova stiamo vedendo appunto l'immagine in anteprima andiamo ora in redazione per le altre notizie per noi oggi Giacomo Rizzi grazie Cristina grazie ad un accordo raggiunto ieri nel tardo pomeriggio è stata chiusa la procedura di licenziamento per 15 lavoratori della Boni S.P.A. che si occupano delle pulizie dei treni regionali a Genova Savona S.S.E. Levante l'incontro tra la società Boni e le parti sindacali si è svolto ieri in regione e si è concluso con un contratto di solidarietà per salvaguardare i 15 posti di lavori ricordiamo che il contratto di solidarietà è un accordo tra aziende e rappresentanti sindacali che prevede una diminuzione delle ore di lavoro e quindi anche di retribuzione e ha come durata massima 24 mesi prorogabili per ulteriori 24 mesi dalla redazione è tutto alla linea opportunata allo studio grazie parliamo ora di sport il Panatron International ha organizzato per il quindicesimo anno consecutivo il derby Genoa Sampdoria riservato ad atleti disabili il match si è disputato a Bogliasco un modo per abbattere barriere e pregiudizie attraverso lo sport che permette a tutti di divertirsi e provare emozioni della stessa intensità sentiamo alcune impressioni essere riusciti a fare 15 edizioni consecutive non è una cosa da poco è un impegno piuttosto gravoso ma bellissimo veramente che fa bene al cuore perché questi ragazzi meritano tutto e anche qualcosa di più perché non sono certamente da meno dei ragazzi più fortunati di loro ecco perché sei partito con questa iniziativa ho pensato che non è essere un club del Panatron non deve limitarsi a delle cene a delle conviviale ma deve fare qualche cosa di più di più valido allora ho pensato a questo al concorso scolastico a un'ora per i disabili dove andiamo nelle scuole ecco tutto questo penso che sia che rispecchi veramente le finalità del Panatron in campo come si sta si sta bene però si suda e c'è la mettiamo della volontà ti stai divertendo in campo sì bene voglio l'associazione tra i comuni tra i comuni di Chiavari e Leivi per questo motivo la provinciale sarà chiusa al transito al mattino dalle 10 alle 12 per le prove e nel pomeriggio dalle 13 sino alle 18 e 30 e ora chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con un augurio nel solco degli anniversari che abbiamo celebrato in questo mese di settembre oggi ne festeggiamo uno speciale che riguarda uno dei nostri collaboratori volontari più longevo come servizio e anche come età anagrafica gli auguri di buon compleanno vanno a Pier Giuseppe Lanata popolarmente soprannominato Paito che spegne 80 candeline arrivato nella squadra dei volontari 20 anni fa proprio in coincidenza con la storica visita pastorale di Giovanni Paolo II a Chiavari Paito è divenuto poco tempo dopo un punto di riferimento fisso per la trasmissione della Santa Messa quotidiana subentrando ad un altro storico volontario dell'emittente Bruno Luciani all'impegno giornaliero nella cattedrale di Nossa Signora dell'Orto Pier Giuseppe affiancato molteplici servizi svolti all'interno dell'emittente anche lo staff dei collaboratori per la Messa quotidiana è cresciuto nel tempo sotto la sapiente guida di Pier Giuseppe che continua ad essere uno dei più attivi tra tutti i volontari che consentono a Telepace di portare avanti il proprio compito a Paito allora l'augurio più affettuoso di buon compleanno da parte di tutto lo staff e buon proseguimento di cammino e cuidiamo così questa edizione del nostro telegiornale l'informazione torna questa sera alle 19.15 20.30 22.45 con Tiguglio Oggi grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio e buon pomeriggio